qui da Pugliona. Vediamo, vediamo, vediamo perché ormai dovremmo essere praticamente con tutto pronto. Si va, si va. I cavalli entrano in dirittura di arrivo con Main Street, il leggero vantaggio nei confronti di Guagliona, Indy, Liberty River e passa a Guaglione nei confronti di Main Street, Liberty River e Chicky Chapman. Il leggero vantaggio Guaglione attaccata all'esterno da Main Street in terza posizione, Liberty River e sempre nel leggero vantaggio Guaglione nei confronti di Main Street e Liberty River. È facile Guaglione nei confronti di Main Street e Liberty River e si stacca Guaglione nei confronti di Main Street avvicinata all'esterno da Liberty River. Grazie. 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 Grazie.